Manca ancora l'ufficialità, ma tutto fa pensare che Alex Danuti, il quarantenne romeno che investì ed uccise Letizia Fiacchini, la sua mamma a Salleo, rimanga in carcere. I termini entro il quale il Tribunale del Reesame di Firenze avrebbe dovuto decidere per la scarcerazione dell'uomo sono ampiamente scaduti. L'avvocato difensore Andra Sandroni ci dice al telefono, non ha ancora ricevuto la notifica, ma credo ragionevolmente che se la sentenza fosse stata a favore del mio assistito lo avrei saputo. Aspetto comunque l'ufficialità. Il romeno si trova in carcere per omicidio plurimaggravato dallo stato di ebrezza. Il legale del quarantenne Andra Sandroni potrà rivolgersi in Cassazione, ma ancora è prematura la decisione. Danuti rischia una pena pesantissima, fino ad un massimo di 15 anni.